Ciao ragazzi, sono qua al laboratorio, sto dando un'occhiata al mio olmo sta ingiallendo quasi tutte le foglie e molte sono già cadute quando le foglie sono così gialle e cadono quasi da sola a me piace fare anche un po' di scrollatura sulla pianta in modo da ossigenare già i palchi queste qui praticamente sono foglie finite appena mettete una mano sotto, muovete un po', vengono giù questo si può fare le foglie invece che sono verdi come queste ancora le teniamo perché alla pianta oggettivamente servono quindi finché ha roba su, roba verde, roba che funziona, quella può rimanere foglie invece gialle che tendono ad andare già sul marroncino quelle comunque sia appena le tocchiamo, crollano e quelle possiamo tranquillamente toglierle anche subito così passa più luce e si rinforzano già un pochettino anche i butti quelli più fini perché sono i più importanti bisogna sempre preservarli per quanto riguarda le domande che sto ricevendo sempre sulla coltivazione degli olmi allora ragazzi mi raccomando teneteli sempre fuori non state lì a fare 200 schemi diversi adesso la metto in casa, la metto, che ne so, in una posizione strana questo vi complica la vita lasciate tutto fuori con me senza problemi ovviamente se arrivano le gelate a meno 10 gradi allora sì, lì ovviamente qualcosa bisognerà anche fare se dopo 2-3 giorni continua sempre sto andazzo qui ma finché la temperatura poi in inverno andrà che ne so, meno 2, meno 3 poi durante il giorno torna a 0 oppure più 2 i ragazzi non si fa niente cioè le piante sono programmate per l'inverno anzi, il freddo lo devono prendere così capiscono che è ora di fermarsi così si fa anche bene il ciclo naturale delle piante perché gli olmi come le zelcove se le tenete in casa ragazzi dopo un po' non funzionano più cioè non capiscono più un cazzo cioè questa è la verità vi vegetano male durante l'anno perché non hanno fatto il periodo di stop quando è ora di fare lo stop non si fermano e poi l'anno dopo di nuovo così di nuovo se li parte male si entra in quel circolo vizioso che comunque sia non è una situazione naturale adatta alla pianta ok? quindi tutto fuori se c'è luce bene se non c'è luce è uguale perché tanto arriva l'inverno non c'è problema arriva il vento non c'è problema scende la temperatura non c'è problema piove 4-5 un mese di fila non c'è problema se avete substrato specifico perché a ducifoglie ok? per cui è una miscela inerte granulare che poi trattiene solo quello che serve questa è una pianta che ho rinvasato l'anno scorso mi pare di ricordare ho fatto un falso all'invaso non mi ricordo più l'andrò a rinvasare fra altri tre anni ok? quindi la lascio lì parecchio questo mi aiuta prima di tutto a far stabilizzare bene la pianta ok? ovvio se la state coltivando in un substrato che non va bene come che ne so torba o ad esempio anche akadama che dopo un anno già diventa polvere secondo me quindi non va bene so che intanto la usano sugli olmi non va bene ragazzi è inutile che state lì a cercare una soluzione diversa non va bene ok? perché poi vi ritrovate sempre che ogni due anni dovete rinvasare perché l'olmo è una pianta che fa radici molto velocemente entra nel vaso schiaccia più con le gelate quindi il granello di akadama raccoglie acqua col ghiaccio si spacca vi ritrovate il vaso pieno di sabbia ok? perde la struttura granulare il substrato e avete problemi primo di drenaggio secondo vi diventa un mattone cioè non raccoglie più acqua poi dopo il terreno ok? perché effettivamente diventa una saponetta una mattonella così e lì bisogna prendere la scelta ragazzi cioè se dovete coltivare per tenere la pianta ferma lì che funziona se no ok se volete fare le cose come le faccio io ragazzi andate a bomba andate a super bomba poche pugnette ok? questo vi far fare salto di qualità e vi toglierà tantissimo lavoro so che in questo momento magari avete la scimmia volete mettere in mano all'inizio ero anch'io così mettevo sempre in mano rinvasavo ogni anno le piante perché volevo vedere provare facevo delle gran cazzate ragazzi le piante più stan ferme lì meglio è l'anno scorso e due anni fa ho fatto tutti i miei rinvasi substrato specifico quest'anno secondo me non farò neanche un rinvasio perché sono a posto questo è un punto che va a mio vantaggio e va a vantaggio della pianta che riesce a creare la sua struttura per lavorare bene sotto vi renderete conto che dopo due tre anni che la piante lì vi fa il triplo di roba e sta tre volte meglio ok? considerate che il rinvaso come tutte le operazioni invasive sono delle terie ok? si fanno solo se c'è bisogno veramente bisogno finché il terreno dreno finché la pianta sta bene ha un bel fogliamo un bel colore lasciate tutto così com'è non andate a complicarvi l'esistenza non mettete mano perché mettere mano se non c'è bisogno se non sapete cosa fare ragazzi compratevi una pianta in più oppure trovatevi una fidanzata così vi rompe i coglioni lei vi porta in giro tutto il giorno e così trovate qualcosa da fare tutto il giorno ciao ragazzi mi raccomando a bomba viva il bonsai e viva le donne oggi sono buono ciao a tutti mi raccomando concimate con l'imperator adesso unite con dna mettete sopra lo sfagno ok? vi aiuta un sacco ciao a tutti